allora salve a tutti oggi volevo recensire un atomizzatore rigenerabile va bene che si devaporous rda almeno penso a che ne capisco io della motofo vuoto fofo questo va bene questo atomizzatore va bene che si presenta così va bene e allora se cioè nel senso questo è un atomizzatore da pormone spinto proprio lo vedete anche perché c'è un portuso enorme va bene per far entrare tanto vapore per fare tanti nuvoloni i nuvoloni queste cose che vi piacciono tanto queste cose da altro sessuali vergogna caratteristiche tecniche dunque è grosso l'abbiamo detto già il portuso grosso l'abbiamo detto ai lati a due fori che servono per far entrare l'aria tv quando si attiva va bene tutta la circuitazione potentissima e ci arriva la corrente no dentro ci sono due resistenze che le dovete fare a voi vi dovete mettere lì col filo a girare quante spiele faccio e quando il filo quando lo faccio spesso le camorrie poi ci mettete il cotone allora la resistenza si attivano succede che il cotone si scalda il liquido evacqua va bene evacquando voi se vi mettete lì e essucate tutto questo vapore e facete i nuvoloni e basta come recensione mi sembra molto completa non potrei dire niente di più specifico e tecnico vergogna